Salve a tutti, oggi farò vedere come realizzare una pettinatura che si è abbastanza elegante ma non è troppo impegnativa. Io questa sera la farò per andare alla cena di classe quindi potete immaginarvi, è un'occasione speciale però non richiede una elaborazione particolare. Consiste praticamente nel lasciare la parte qua davanti dei capelli liscia in modo che contorni il viso mentre cercare di dare volume alla parte qua dietro. Per iniziare ci spazzoliamo i capelli con la spazzola che fino a 30 eccola. Allora io prima vado con una spazzola morbida per ammorbidire i nodi e poi vado con una spazzola normale. A questo punto c'è un altro nodo. A questo punto partiamo da circa metà della nostra testa e tiriamo una linea. In questa maniera. La fissiamo e alla stessa altezza la facciamo dall'altra parte. e la fissiamo sempre con una clip. Allora, che cosa andremo a fare? Andremo a mettere dei bigodini qua dietro fatti da me in stagnola e vi faccio vedere come si realizzano. Si prende un pezzo di stagnola alluminio, lo e poi si piega a metà, si strizza, si ripiega a metà e si gira. Ecco qua il bigodino. Semplicissimi, i riccioli vi assicuro che vengono davvero fantastici. Allora, dopo aver messo i bigodini qua dietro, andrò a dividere a metà qua i capelli facendo delle trecce nella parte sotto, mentre qua li lascerò lisci in modo che mi contornino il viso. Ora passiamo all'applicazione dei bigodini. ero è un Sweet Po. Iscriviti al canale 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 Iscriviti al canale